Allora, è questa la fortezza del guerriero? Sì, ora la via è libera, possiamo proseguire. Una volta entrati sarà o lui o noi, hai capito? Lui detiene parte dell'essenza di questo luogo, dobbiamo liberarla per intrappolare Ariman. Allora non puoi esitare, puoi anche voler salvare il guerriero, ma lui ha già fatto la sua scelta. Saliamo sulla torre. Vai! Non esitare. Dobbiamo farlo. La lastra si trova lassù, è illuminata. Non aspetta che nulla. Dovremo farlo per tutto il tempo. Non è troppo tardi. Voltatevi. Fuggi! La tua lotta è finita. Un uomo non può battre unito. La mia vita è finita. Ma questo era mille anni fa. La tua lotta è finita. sono troppo tardi. Sono troppo tardi. Sono troppo lontano. Puoi risanare senza il suo corpo. ma sono troppo tardi. Vai! Vai! Oh! Allora! Ah! Oh! bene va bene ora si è scattato non si è scattato Fuori, fuori, peronore. Non combatte le armi! Mi sta ascoltando! Mi ha liberato! Mi ha liberato! Mi sentite! Soltano tu! Busta la sua forza! Non so il mostro! Chiari manda presto evoluzione! Chiari manda presto! Chiari manda presto! Chiari manda presto! Non è così! Chiari manda presto! 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 Perdonami. Perdona il mio popolo. E loro ti perdoneranno. Ariman! Ariman! Elica! Te l'avevo detto di non esitare. Lui ci ha salvati. Ha cercato di ucciderci e ci è andata bene. Non sprechiamo la nostra fortuna! Va tutto bene, ce l'abbiamo fatta. Ok, forse sono stato un po' troppo ottimista. Ci ha salvati. Ha cercato di ucciderci. E se non ce ne andiamo ci riuscirà. Woohoo! Ok, perciò! Ok, perciò! Ok, perciò! Ok, perciò! Te l'avevo detto di non esitare Ci ha salvati Ci è andata bene Ha combattuto Ariman È morto con onore Non si può morire con onore Si muore e basta Se avesse davvero voluto combattere Ariman Avrebbe dovuto farlo da vivo Abbiamo bonificato le terre I suoli fertili alimentano di nuovo il tempio Ma dobbiamo comunque ritornare al tempio Lì ci sono suoli fertili che convogliano l'energia Deve esserci un modo per scalare l'albero sacro e raggiungerli Allora Ariman sarà in trappola Pensavo ci fosse Ariman nell'albero Tipo io Ha ancora quello sguardo Mi dispiace di averti coinvolto Non sei stata tu È stata un'asina Un'asina, un dio, una tempesta Ma ormai sono qui Perciò chiudiamo questa storia e poi vediamo che succede E alla fine dipende tutto da una manciata di minuti Sarà una storia ben strana da raccontare Andiamo a sbattere quel dio in prigione Quattro corrotti e diverse centinaia di soldati fatti fuori Manca solo un dio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.